amici sportivi buonasera cercheremo questa sera di fare un po il compendio il assunto delle novità di questo periodo riguardanti lo spezia nel periodo in cui almeno queste due settimane i giocatori non non si alleneranno non si stanno allenando come saprete e alcuni sono protagonisti prossimi protagonisti dei mondiali quindi hanno magari amichevoli altri sono invece stati convocati da rispettive nazionali e quindi hanno già disputato alcune le loro gare le loro prime gare queste due settimane saranno un po propedeutiche alla ritorno invece al lavoro vero e proprio con mister Gotti per quanto riguarda poi la lungo mese di dicembre che ci separa dall'inizio dal ritorno del campionato che ci sarà il 4 di gennaio al picco con l'Atalanta quindi una serie di step che porteranno anche la squadra come ben saprete le notizie sono già state date in questi giorni che si recherà anche in una specie di ritiro ma è un vero e proprio ritiro si ricomincia a fare sul serio anche dal punto di vista del rimettere nelle gambe quelle che sono le potenzialità per arrivare poi ai primi di giugno dove ci porterà il campionato appunto fine ai primi di giugno e quindi si recherà in Spagna tra poco parleremo anche di questo ma prima di tutto vorrei iniziare da le notizie sul portiere Bartolomei Drangoschi che purtroppo ha subito questo grave infortunio come abbiamo visto tutti per fortuna è un infortunio meno grave di quello che ci si poteva aspettare e direi che è andata anche forse al meglio rispetto a quello che poi sembrava all'inizio perché le prime immagini anche per noi che eravamo presenti lì vicino allo stadio Vente Godi i giocatori mani nei cappelli alcuni che piangevano insomma situazioni veramente brutte da vedere dal punto di vista ovviamente di quelle che sono state le reazioni ma quello che stava soffrendo di più in quel momento era sicuramente il portiere che ha avuto questo scontro con lasagna il piede che gli è rimasto sotto lasagna che lo prende in pieno questo piede che rimane storto tutti insomma se pensate alla frattura di tibia e perone per fortuna invece non è andata proprio così c'è comunque l'interessamento dei legamenti che si sono per così dire lesionati ma non non è la situazione così grave come poteva essere appunto con una frattura o con una frattura più legamenti insomma tante cose che potevano succedere più gravi e quindi andiamo a vedere subito quello che è stato il resoconto del nuovo comunicato che è emesso ieri dallo Spezia comunicato che dice appunto che gli esami diagnostici hanno evidenziato una lesione di alto grado del legamento peroneo astralgico insomma in termini tecnici ovviamente per quanto riguarda le nozioni mediche che bisogna avere per capire precisamente di che legamenti si tratta comunque il legamento del perone e il legamento sempre del perone però calcareare quello che poi chiaramente sono i legamenti che tengono il piede di modo che non faccia movimenti eccessivamente innaturali purtroppo invece il piede ha fatto un movimento non naturale e dobbiamo dire che l'intervento però molto tempestivo del dottor Gatto del Verona ha fatto sì che la ricomposizione della della lussazione subito cioè il rimettere a posto il piede nella sua collocazione originale ha fatto sì che anche probabilmente legamenti si siano anche sforzati per usare un termine proprio terra terra di meno e poi c'è una parziale lesione del legamento del toideo è ovvio che questi legamenti avranno del bisogno di tempo quindi almeno un paio di mesi per tornare a funzionare tra virgolette come si deve un po' come quando ti infortuni gravemente a un muscolo che si sfilaccia e quindi magari secondo o terzo grado quindi alto grado qui si parla di alto grado secondo o terzo grado per il muscolo vuol dire o addirittura strappo in alcuni casi di terzo grado strappo proprio le fibre muscolari che si strappano in questo caso alcune fibre probabilmente sono strappate o comunque non si sono sfilacciate molto quindi bisogna hanno bisogno di tempo per essere risistemate quindi il calciatore ovviamente dopo un breve periodo di posto dice la società potrà intraprendere percorso di recupero del caso il giocatore stesso su twitter ha lasciato un messaggio anche distensivo oggi ringraziando innanzitutto tutti quelli che ne hanno fatto ovviamente gli auguri di pronta guarigione questo insomma penso un po da tutta italia siamo arrivati tantissimi messaggi tutta italia tutto il mondo dalla polonia insomma è chiaro che per lui rinunciare al mondiale una cosa non da poco anche se probabilmente non sarebbe stato il titolare non sappiamo però certamente sarebbe stata veramente una grande esperienza per lui volevo ringraziare tutti per i messaggi di sostegno ordinata nuova caviglia e se la consegna espresso funziona dovrei tornare presto ci scherza anche su e quando ci si scherza vuol dire che insomma sia già alla fase successiva quella della preparazione al diciamo al sudore per cercare di recuperare i tempi tempi più brevi ovviamente ci dovrà mettere anche del suo perché non sono mai facili questi infortuni da recuperare vediamo sotto le risposte il primo è stato ribagiati che gli ha che gli ha risposto poi lo spezia ti aspettiamo drago e via via i compagni vittor con valenco e insomma tutti gli sportivi tifosi siamo arrivati a 15.500 374 mi piace quindi insomma devo dire che da questo punto di vista a Bartolomei ha sicuramente il supporto del pubblico il supporto dei tifosi e la volontà da parte del giocatore di tornare al più presto c'è sicuramente e quella della società di non intervenire sul mercato è altrettanto un dato importante perché è giusto sottolinearlo c'è stata anche questa scelta da parte della società cioè quella di non intervenire nel momento in cui il giocatore non avrà una sosta cioè un diciamo un infortunio che dura così tanti mesi quindi visto che in un paio dovrebbe tornare fiducia a Zut che si è fatto trovare pronto sia nella partita con l'Udinese sia nella partita col Verona facendo bene quindi fiducia a lui con Zocco secondo e poi il ragazzo di Spezia Dido come terzo portiere ovviamente ragazzo da primavera che però abbiamo già visto nella preparazione estiva quindi è chiaramente giustamente lo Spezia si era portato avanti ma non perché si pensi il peggio ma poi bisogna comunque portare quattro portieri ad essere pronti per ogni eventualità e quindi giustamente poi adesso Dido andrà nel mese di gennaio a sostituire come terzo portiere diciamo a sostituire Drangoski quindi fiducia a Zut questa è una notizia che possiamo dare con certezza non ci andrà sul mercato per il portiere invece si è andrà sul mercato per altre operazioni gli aggiornamenti di mercato attualmente appena dopo la metà di novembre sebbene alcune notizie siano anche fondate siano anche diciamo molto in trattativa avanzata si tratta di quelle che insomma avete trovato avete letto sui media in questo periodo quindi João Moutinho per quanto riguarda l'esterno di sinistra l'esterno di sinistra poi eventualmente un altro giocatore che potrebbe arrivare per quanto riguarda il centrocampo anche lì Cardoso è il nome che sembra più vicino a un possibile arrivo insomma però è inutile adesso fare nomi specifici perché ci sono anche altre società che ovviamente stanno cercando giocatori in questo periodo quindi non è facile arrivare subito a chiudere determinate operazioni quindi vedremo più specificatamente magari nelle prossime settimane perché adesso è iniziato un vero e proprio mercato lungo cioè da ora all'inizio di gennaio praticamente era già fatto il mercato in un certo senso anche se ci sono tanti giocatori che sono al mondiale e quindi questi potranno avere valutazioni più o meno alte con il mercato che sarà in evoluzione nel confronti poi delle prestazioni che questi giocatori avranno durante il mondiale è vero che il mondiale non ti fa giocare 30 partite quindi il giocatore lo valuti relativamente ma fare benissimo ai mondiali potrebbe essere un ulteriore incentivo da questo punto di vista andiamo a vedere quelle che possono essere le notizie invece sugli aquilotti che hanno disputato partite premondiali e si tratta di Kivior qui andiamo a vedere la formazione di ieri della Polonia ad esempio il portiere titolare ieri è stato Skorupski quindi con Kivior schierato in difesa a destra se questa io non ho visto la partita ovviamente però se questa cosa è giusta ma non lo so non è proprio l'ideale lui a destra capisco Glick al centro perché è un giocatore che ha sempre giocato centrale anche a Kivior piace giocare centrale quindi certamente ha una posizione poi quella di destra che non mi sembra proprio adatta a lui però è ovvio che poi ogni nazionale cerca di sfruttare al medio quei giocatori che ha quindi come ogni club ha anche quindi Kivior anche nello Spezia ha fatto più di un ruolo ma è sempre stato molto meglio vederlo in posizione centrale sia che quando ha giocato diciamo in difesa sia quando poi si è spostato un po' più avanti a giocare centrocampista detto questo ha provocato il gol della Polonia cioè è stato diciamo una sua incursione offensiva a far sì che la Polonia abbia segnato quindi questa vittoria sul Cile quindi buona la prima diciamo per Kivior che si appresta probabilmente a essere un titolare anche perché poi ha giocato 90 minuti quindi gli altri della difesa sono usciti invece lui ha giocato 90 minuti quindi ha la fiducia sicuramente dell'allenatore andiamo a vedere invece cosa è successo per quanto riguarda gli altri nazionali allora Olma è stato protagonista della vittoria col Messico 2 a 1 90 minuti disputati buon per lui che continua a fare lo staccano vista dopo averlo già fatto nella Spezia per gran parte delle partite finora disputate anche Ristov ha giocato titolare contro la Bulgaria mentre invece Beck è capitano dell'Under 18 danese che ha superato 4-1 al Portogallo è entrato invece nel secondo tempo per quanto riguarda la partita con la Slovacchia con la Lituania scusate reti inviolate l'Italanda contro la Lituania in campo invece questa sera ci sarà i Strelec con il Montenegro la sua Slovacchia contro il Montenegro quindi diciamo che dal punto di vista delle nazionali questi sono i ragazzi impegnati gli altri stanno facendo praticamente vacanza tra virgolette però continueranno ad allenarsi per conto loro ovviamente e poi ci sarà il ritorno invece come vi dicevo terminate queste due settimane di nazionali ci sarà il ritorno allenamenti con mister Gotti e poi come avevamo detto la partenza per il ritiro il ritiro vicino a Valencia comunità valenziana l'hotel Oliva Nuova Beach Golf Hotel praticamente i giocatori partiranno il 13 il 13 allora lunedì 28 novembre come vi dicevo si ritroveranno e cominceranno gli allenamenti e giocheranno cioè staranno a follo fino al 12 dicembre come vi dicevo poi dal 13 al 22 a Oliva una località vicino a Valencia più a sud sicuramente un posto dove fa meno freddo rispetto alle nostre zone specie se il dicembre che si annuncia abbastanza freddo dovesse verificarsi è chiaro che non vanno ai tropici vanno comunque in Europa però con località mediterranea fa un po' più caldo che qua ed è sicura poi stare un po' lontano da casa in ritiro e intanto è chiaro che bisogna stare anche quei 15 giorni distanti e quindi per poi dal 13 al 22 probabilmente c'erano un paio di amichevoli vedremo quali per quanto riguarda invece il ritorno appunto è previsto il 22 dicembre e poi chiaramente si tornerà ad allenarsi a follo fino alla partita del 4 gennaio poi ovviamente sapremo tutto peccato che è un po' lontano a posto Valencia insomma non è proprio lì dietro perché se no altrimenti si poteva pensare di andare a trovare gli Aquilotti qualcuno probabilmente ci andrà ma insomma rimane una località a quasi 1500 km da Spezia quindi non siamo proprio lì dietro forse qualcuno che potrà permettersi un po' di vacanza a dicembre potrà andare a trovare anche gli Aquilotti peraltro il posto sicuramente è un bel posto perché Valencia non è male da questo punto di vista andiamo a vedere invece continuando con le notizie quello che è successo ieri perché c'è stato questo comunicato ufficiale della società che ha praticamente esonerato Mattia Biso, Matteo Serra e Marco Acunico che erano componenti dello staff di Riccardo Peccini Mattia Biso come sapete faceva un po' il direttore tecnico della prima squadra e della primavera insomma tre di union tra la prima squadra e della primavera Matteo Serra e Marco Acunico erano impegnati invece nello scouting e tutti e tre sono stati esonerati e sta continuando diciamo così il trapasso tra l'era chiamiamola così Peccini e quella Massia la società intende ringraziare il lavoro svolto fino a questo momento e augura loro le migliori fortune professionali logicamente insomma come è giusto che sia ripeto prosegue quella transazione tra Peccini e Massia che porterà probabilmente a nuovi ingressi anche di collaboratori a questo punto legati al direttore Massia da questo punto di vista per quanto riguarda proprio Massia domani ci sarà una conferenza stampa di cui ovviamente vi daremo conto anche video e ci racconterà un po' le novità sullo Spezia per quanto riguarda il futuro ma anche probabilmente ci farà già un compendio un sutto di quello che è successo fino adesso in queste prime 15 partite di campionato quindi ci andrà un po' a parlare di tutto vedremo insomma domani quindi come vi dicevo sicuramente ve ne daremo conto anche perché è giusto che mi sembrava giusto infatti la società penso che abbia fatto la scelta giusta insomma sentirà anche un po' l'opinione del nuovo direttore rispetto a quello che è stato il campionato fino adesso certo discorsi ce ne sono fatti tanti è stato messo anche in discussione Luca Gotti quindi sinceramente per me per quanto mi riguardano a mio parere non è stato mai in discussione però ovviamente poi ognuno può pensare come vuole certo se una squadra perde continuamente 10 sconfitte consecutive io posso capire che non c'è gioco non c'è soluzioni non si riesce a uscire dal tunnel ci sta che si possa fare un cambio ma per quello che Gotti ha dato fino adesso alla squadra come l'ha fatta giocare come l'ha fatta diciamo migliorare perché penso che sia sotto gli occhi di tutti che le ultime gare sono state migliori di quelle precedenti la squadra tiene di più anche nei secondi tempi fa i secondi tempi migliori stanno venendo fuori anche le individualità più importanti deve tornare ovviamente qualche giocatore al meglio ma questo lo sapevamo lo sapeva anche lo stesso Gotti quando ha chiesto magari all'inizio alla società un paio di elementi in più che lo ha aiutato a essere in quel momento quando non c'erano ancora tutti a disposizione e che Dalle è entrato in forma sta entrando in forma adesso verde lo stesso ecco lui voleva magari due giocatori che potessero sostituire loro due in questo periodo è logico che ogni allenatore cerca sempre il meglio sappiamo cosa è successo anche a livello magari di problemi con il direttore non sono state autorizzate determinate operazioni adesso però bisogna intervenire per cercare di mettere quei puntelli che come vi ho già detto prima sono stati individuati un po' adesso si parla anche di alcune eccessioni Ferrer si è parlata addirittura della possibile eccessione di Giasi io penso che siano ancora cose assolutamente premature che se si verificassero Ferrer più probabile perché magari sta giocando meno e ci sta penso che prima che vada via il capitano ce ne vuole insomma di acqua sotto i ponti e soprattutto di situazioni di un certo tipo perché un conto è che venga richiesto da qualcuno un conto è che lui decida di voler andare via perché non trova più la fiducia magari qua dell'allenatore o della dirigenza penso che tutto questo in questo momento sia assolutamente discutibile quindi è inutile fare adesso dei discorsi su cui può partire ci sono alcuni ragazzi ovviamente giovani che possano andare a giocare in prestito e questo è assolutamente una cosa fattibilissima anzi probabilmente è una situazione che probabilmente si verificherà è chiaro che il mercato non è mai facile in uscita perché un giocatore per andare a giocare devi trovare una squadra disposta a prendere il giocatore e a dargli anche un po' di fiducia perché se no se sta sei mesi in un posto senza entrare in campo a te serve poco a lui pure insomma sia sempre di col conto è difficile trovare una squadra che sia disposta o comunque che abbia la fiducia nei tuoi giocatori per farli poi giocare con continuità è un po' quello che sta succedendo a Cornu nel Cosenza nonostante abbia fatto anche un gol bellissimo nella prima apparizione però sta giocando molto poco quindi è chiaro che così a prestiti di questo tipo servono a poco se giocano pochissimi minuti quindi vedremo speriamo che nel corso della stagione anche per Cornu ci sia la possibilità di giocare di più di essere più di metterci più in evidenza perché è un giocatore che sicuramente ha delle buone qualità benissimo io direi che per questa sera il nostro notiziario finisce qua abbiamo in serbo domani vi dicevo appunto l'intervista con Massia e poi anche un'intervista in questi giorni con un collega importante quindi ci sentiamo presto sul canale Spezia Calci News TV buonasera a tutti